No, che schifo Yeah Yeah Che bello Pesteggiamo, sì, il mio compleanno Yeah Bella ragazzi Eh sì ragazzi, sono 18 Non sono 19 Ma non avevo l'8 Quindi mi sono accontentato Comunque raga, bentornati sul mio canale Oggi Oggi, 7 maggio 2020 Io faccio 18 anni Finalmente E come pensavo di festeggiarlo il mio diciottesimo Fin da quando ne ho 16 di anni In quarantena E ragazzi, quindi per fare qualcosa di più carino Cercherò di seguire uno dei vostri consigli Mi avete dato il live su Twitch Ma vi ricordo anche di seguirmi in live su Twitch Se no non mi potete dare questi fantastici consigli E ragazzi, prima di iniziare vi ricordo un bel like Arriviamo a 18 like Perché mi sembra il minimo arrivare a 18 like E ragazzi, oggi siamo su Festeggio il mio compleanno su Amigol Non è che lo festeggerò proprio esattamente come pensate voi ragazzi Infatti oggi cercherò di farmi fare gli auguri Su Amigol Ma visto che non mi sono riuscito ad attrezzare come volevo E dato che è un periodo un po' del cazzo Non potrò farlo in Facecam Cercheremo di farlo allora via chat Se non funzionerà via chat Perderò le speranze Andremo in Facecam E vediamo se qualcuno sarà disposto a farci gli auguri Quindi ragazzi, io non indugerei ancora Vi ricordo di seguirmi su Twitch E adesso iniziamo subito dal video E andiamo a festeggiare porca puttana Johnny Io aspetterei che sia loro M Ehi, bro, aspetta Ragazzi, primo tentativo fallito Non possiamo neanche iniziare così ragazzi Cioè, non ha senso Aspetta, non quittare Non quittare Voglio chiederti un favore Ok ragazzi, non ho ancora messo giù Oggi faccio 18 anni Siamo in quarantena Ragazzi Sta tutto nelle sue mani Grazie bro Il primo è andato Abbiamo ricevuto gli auguri Grazie bro E ragazzi Questo già mi riempie il cuore Attenzione ragazzi Arriverà il suo Auguri Riccardo Ah ah Grazie bro E via con la nuova ragazzi È stato più semplice del previsto questa ragazzi Dove sei? A casa E Volevi Ma no Mi sa di no Mi sa che questo qua non ci farà gli auguri ragazzi Mi sa che questo qua tra poco quitterà Gli ho provato a buttare lì capito A festeggiare il mio 18 Vediamo cosa pensa lui Ragazzi Grazie man È stato facile Cioè mi ha fatto gli auguri Pure questo Cioè Di questo qua neanche gli abbiamo chiesto Fammi gli auguri man No 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 Lui Ragazzi Gli italiani sono i migliori Gli italiani sono i migliori Ragazzi Adesso proverò a farmeli fare in inglese Ma inglesi Ma dove mi cadete Ma dove mi cadete Ma Questo qua è la prima cosa che mi dice Hi I'm Orny Cioè ma chi cazzo sei? Ma chi ti conosce? Se questo qua mi riscrive I'm Orny Today is my birthday Grazie bro Grazie bro Raga Allora 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 Che dire È stato un video ambigui Non me l'aspettavo veramente così Mi aspettavo di metterci molto di più A farmi fare gli auguri Ma Mi è piaciuto comunque raga Mi è piaciuto comunque Anzi devo ringraziare tutti quelli che Hanno partecipato a questo video Che non lo sanno Però grazie raga Mi avete Fatto festeggiare Tra il mio 18 In maniera un pochino più Simpatica Raga Simpatica Ecco quindi Lo apprezzo tantissimo Ragazzi Come molti di voi saprete Oggi è veramente il mio compleanno E purtroppo sono chiuso in casa Come tutti voi Però ragazzi Rimaniamo in casa Non usciamo Io ho potere Di mediatico Pari a zero praticamente Però Per quello che posso Vi dico Restate in casa Non uscite Non fate i coglioni Soprattutto te Fox Non uscire Quindi ragazzi Per questo video è tutto Io vi ringrazio tutti quanti Vi lascio qua sotto nei commenti Se volete farmi anche voi gli auguri Mi farebbe davvero molto piacere Perché comunque È un bel gesto Fare gli auguri Secondo me E niente raga Noi ci becchiamo Probabilmente in live Uno di questi giorni Adesso ovviamente Questi giorni qua Dovrò festeggiare Il mio 18 Tra virgolette Con i miei genitori Quindi Sicuramente le 7 Non potrò andare in live Però Gli altri giorni Chi lo sa Magari si Raga Prima il vostro Just Razer X Zeus Refeeds Z Razer Mi stavo dimenticando Z Razer È tutto È bella raga È bella raga Grazie a tutti